Oggi ci troviamo in compagnia di una star, una vera star, di quale è la superstar del musical americano. Vi presento Frank D'Ambrosio, alias il figlio di Anthony Vito Corleone, nel film Il padrino numero 3. Ciao Frank. Ciao, ciao. Grazie a te. Grazie a te anche a te. Scusate, che è la canzone che hai scritto nel film? Parla più piano. Oltretutto ha anche una famosa star del musical americano perché è il phantom dell'opera, il vero phantom dell'opera. Broadway, ha lavorato a Las Vegas, ha lavorato a New York. Adesso è tornato perché sta lavorando con quattro phantom famosi, quello dell'Inghilterra, phantom Germania. Germania e Canadese. The Four Phantom. Perché sei qui a Milano? Perché sei qui a Milano? Ok, praticamente qui perché ci sono delle charity, lui vuole aiutare le associazioni che aiutano gli animali, perché in America è una cosa comune aiutare gli animali. E siccome sappiamo quello che è successo nel sud e nel meridione e le necessità di fondi che appunto per i canili, allora ha detto perché non aiutare il mio paese d'origine che è l'Italia. Lo fanno molto spesso in America e adesso è venuto perché sta contattando appunto tutti questi teatri. Ma ora le mie passioni sono completamente tornate a aiutare e aiutare gli animali e aiutare in essere able to feed them and to keep them alive. Praticamente dice io sono un momento della carriera che ho deciso che devo fare qualcosa di positivo e aiutare gli animali. Perché no gli animali? Are you American or are you Italian? I have a dual citizenship, I'm an American citizen, but I'm also an Italian citizen, I have two passaporti. Ha due passaporti, per cui anche italiano, oltre che essere americano. Siamo molto orgogliosi di te. What do you think about to make a recital, for example, about songs from Les Miserables or songs from, for example, The Phantom of the Opera or Frank Sinatra? Cosa ne pensi, per esempio, a preparare uno spettacolo con un recital di canzoni di Frank Sinatra piuttosto che del musical Les Miserables, piuttosto che il Phantom dell'Opera? But, I mean, maybe to play with artists, Italian artists, gli sto dicendo perché non provare a cantare anche con gli artisti italiani e fare una specie di gemellaggio tra l'America e l'Italia. What do you think about? I would be my honor, I would be my pleasure and it would be something that I would look forward to. I have always had the biggest respect for the Italian culture and the Italian language, even though I don't speak it very well. Sarebbe onorato lavorare con gli artisti italiani, anche se lui non parla bene l'italiano, dice però sarebbe un onore. What do you think about the association in USA about the charity? What is the name of the association they do something? Well, we have the ASPCA in America, but also the one that I work for and work with is the ARF, Animal Relief Fund, and that's based out of California. So... Who is the president? The president of that is... Who is the president of this association, scusate? That's okay. Tony La Russa. Even is Italian original. All right, il signor Tony La Russa, ma non è un giocatore di... He's not a player... He's a champ. E' un campione di baseball, che lui praticamente è il presidente di questa fondazione, che aiutano gli animali. Lui mobilizza tutti gli artisti a Las Vegas, Miami, a Los Angeles, appunto, per aiutare gli animali. Vi rendete conto di cosa dobbiamo e cosa possiamo fare. Thank you very much. It was very... an honor to be here with you. See you again in September, October. I hope so. Absolutely. We wait for you. Thank you very much indeed. Thank you. It is an honor for me to be here. Just a little bit today in the... The Angel of the Music, scusate, gli tolgo una piccola, perché è la famosa star, ha fatto 2300 repliche in tutta l'America. Thanks a lot. Grazie a tutti per averci seguito. Un abbraccio e un saluto a tutti da The Big Bao, UNET TV, UGAT Television. Grazie, ciao. Sensation, darkness stirs and wakes imagination.